E come diceva sempre la mia mamma, nessuno si alza finché il piatto non è pulito. E un complimento allo chef e io li adoro. E signorina Falcone... Mangia, signorina. Solo se non gli farai del male. Puoi aiutarmi? Certo. Chi? No! 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 Uccidere il bambino! No! Vescemi! Martin! Jim! Vescemi! 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 Andiamoci No, non renderti Rovinerai tutto